questo castello è noto con il suo soprannome di shirasaji jo o castello dell'airone bianco perché l'edificio centrale ricorda un airone che sta per spiccare il volo la maggior parte dell'edificio giunto fino a noi risale all'inizio del diciassettesimo secolo il suo fulcro è il ten shugun il complesso di fortezze a sei piani con tre fortezze più piccole e una serie di bastioni che avevano sia uno scopo difensivo che residenziale il complesso è stato costruito tra il 1333 e il 1618 e ha un'altezza massima di 45 metri l'intera area occupata è di 576 acri inclusi gli 83 edifici e il terreno circostante racchiusi all'interno delle mura i committenti sono stati akamatsu norimura che è stato anche il primo architetto e ikeda terumasa anch'esso architetto i materiali usati sono il legno la pietra la terra lo stucco e la terracotta molto complesso è il progetto della torre fortificata a sette piani eretta nel 1609 la stanza che occupa il primo piano è nota come la stanza dei mille tappeti per via dei tatami in paglia che ne ricoprono il pavimento il terzo e quarto piano sono provvisti di piattaforme per il lancio delle pietre a difesa del castello l'imeji jo è l'emblema dei castelli giapponesi in legno e conserva intatte le sue caratteristiche la struttura della torre principale è dotata di due pali da 26 metri che si assottigliano dalla loro base con circonferenza di 90 centimetri squadrati rozzamente secondo il principio del wabi-sabi la bellezza dell'imperfezione alcune curiosità il castello funzionò come centro feudale per oltre cinque secoli fino al 1869 quando tokugawa yoshinobu rinunciò alla carica di shogun e consegnò i poteri all'imperatore meiji il castello è stato risparmiato dalla guerra l'unica battaglia che ha avuto luogo tra le sue mura è stata durante le riprese del film di james bond si vive solo due volte se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando